Marco Scapin, che è un insegnante, un musicista, uno scrittore, ma soprattutto non è affatto scontato che in questo momento si trovi lì. Io intanto la saluto, allora, perché lui ha fatto una scelta molto particolare, molto personale. A questo punto Scapin, io lo chiedo subito di dirci, dov'è che lei vive e come soprattutto vive? Buongiorno a tutti, intanto. Buongiorno. Io vivo non molto distante dalla città dove tutti vivono, cioè in una piccola valle in provincia di Belluno, dove praticamente ho cercato di trovare un contesto il più vicino alla naturalità, all'ancestralità, pur mantenendo la mia attività di insegnante di musica, in parte tutte le possibilità che il mondo normale, diciamo civile... Senta, Scapin, posso dirlo, insomma, che la valle è la valle di Faont, non arriverà un'invasione di persone che vogliono conoscerla per questo, ma ecco, perché, adesso poi cercheremo di descrivere la sua vita, no, tra queste due dimensioni, ma perché un uomo di 50 anni decide di andare a vivere la maggior parte del suo tempo in una valle in cui non ci sono altri esseri umani e la compagnia è quella, se non sbaglio, di due cani, due cavalli e quattro volpi. Sì, adesso diciamo che il branco, come lo chiamo io, è un po' cambiato, gli animali sono anche di più, ci sono animali sia selvatici, come appunto le volpi, il tasso, ma ci sono anche animali che di solito sono sfruttati dall'uomo, e questo è un discorso molto importante legato alle creature e anche all'ambiente, che sono maiali, salvati, capre, appunto cavalli e così via. Io sono andato a vivere lì da 15 anni perché sentivo proprio questo bisogno di recuperare quello che noi siamo, in realtà, cioè attori alla pari della fauna e della flora, di quello che io definisco un po' il palcoscenico di questo pianeta. Infatti all'ingresso di casa ho scritto consapevoli di essere natura, proprio perché da qua noi possiamo partire per delle azioni corrette senza abusare delle creature e dell'ambiente. Senta, Scapin, allora dunque, sulle mappe il suo indirizzo è via Faont 1, di fatto non c'è né una via né ci sono due, tre, quattro. Io volevo chiederle, so che insomma lei non rinuncia ai libri, c'è l'elettricità, però diciamo le condizioni poi sono quelle che ci stava descrivendo, lei si considera un moderno remita? Parzialmente posso essere considerato, soprattutto i primi quattro anni in cui sono stato lì ho proprio fatto una vita molto molto di distacco che poi è servita a raccogliere la mia essenza, ad arrivare a delle riflessioni importanti che sto condividendo attraverso delle battaglie a volte, altre volte attraverso il mio lavoro o scrittura di libri o spettacoli o d'altro per comunicare quello che appunto ho raccolto. Allora, io so appunto che lei ce l'ha detto, insegna la mattina, ha un blog, cerca di condividere questa esperienza, ci sono tante persone che la raggiungono, che comunque anche attraverso il blog le chiedono dei consigli. Secondo lei queste persone cosa cercano? E sono persone che forse si sentono più sole di lei, che teoricamente dovrebbe essere, visto che non ci sono altri esseri umani, abbastanza isolato? Sì, diciamo che le persone che arrivano lì, di solito anche su iniziative che ho organizzato, sentono un benessere, una condizione particolare alla quale si sentirebbero più realizzati, ma alla quale non riescono magari a fare quel piccolo passo. vengono magari a confrontarsi anche sulle scelte alimentari. Io ci tengo a dire che sono vegano, come tutti i miei animali tra l'altro, e che sarebbe poi l'alimentazione corretta per l'uomo. ed è proprio qua che niente carne, niente derivati animali, perché non sono il nostro cibo e sono poi la causa in buona parte dell'inquinamento, della deforestazione di questo pianeta, molto di più di quello che noi pensiamo e che attribuiamo ai trasporti o altri ambiti. Ecco, quindi è importantissimo il cibo. Grazie, Scapin.